Attraverso il suo racconto vi racconto una storia abbastanza dell'incredibile, ma insomma se non lo conoscessi da 30 anni avrei, dubiterei, ma non dubito perché lo conosco da 30 anni. Lui è un deputato del PDL, un medico e ha vissuto un'esperienza tra la vita e la morte e a quali non sapevo nulla se pochi giorni fa non avessi letto un'ampia intervista sul Corriere della Sera. Sì, dopo l'estate del 2007 un piccolo lipoma qui sulla tempia sinistra e quindi me la sono fatta togliere. Il mio amico chirurgo che l'ha tolta stava tranquillamente lavorando, quando si è fermato ha detto no, alto, qua mi devo fermare perché sotto ci sta qualche altra cosa. Fatta un'attacca si vede che c'era una massa, una massa che non era proprio definitamente un tumore, però era una massa estranea. Mentre me ne andavo in aeroporto, andavo a incontrare il mio figlio proprio per riscendercene a Catania, la macchina fu colpita nella parte posteriore e io con la testa così già semi spasciata ho avuto l'abilità, si vede che tengo una capa tosta, di sfondare il finestrino. La parabrezza? No, ero dietro. Ah, il laterale? Il laterale. Poi ho urtato fortissimo con il torace sul sedile davanti. Male al torace, vai dal professor Martelli? Sì, lui mi ha fatto, mi operò anche lui in tre ore in una maniera straordinaria attraverso il torace, senza dover aprire il torace, che c'è semplicemente i tre buchi, due servono per operare, uno serve per guardare e mi riuscì a ricucire la mammaria interna che si era sfasciata e quindi avevo il polmone sinistro completamente allagato di sangue. Ritornato, siamo qui verso novembre, dicembre, incominciano a comparire delle linfoiandole, eccetera. Praticamente la botta che avevo preso, l'abbassamento del sistema immunitario, mi ha fatto ripartire il tumore. Nel febbraio del 2009 mi trovo otto metastasi, tra cui alcune di otto centimetri. Il tipo di tumore è importante definirlo. Apriamo il microfono, grazie. Prego, dica, dica. Era un melanoma, questo è molto importante dirlo, perché è un tumore che nelle fasi chirurgiche è trattabile, il primitivo, il primario. Una volta che poi è metastatizzato, i trattamenti attualmente danno veramente scarsi risultati. Ecco, ma lei però suggerì o insieme avete individuato una cura? Io sono stato professore negli Stati Uniti per tanto tempo e ho avuto modo di contattare una serie di professori che mi hanno suggerito degli interventi più o meno sperimentali. E abbiamo iniziato, devo dire, purtroppo mano a mano che le cose vanno a peggiorare, nonostante la lucidità scientifica che contraddistingue la nostra esperienza. Quando le cose ti toccano cambia un po' il tutto. E quindi è entrato anche una sorta di confusione operativa. Per cui abbiamo provato veramente tante cose assieme. Per cui adesso poi ne parleremo, perché tutto sommato siamo qui a parlarne, quindi è andata bene. A un certo punto abbiamo fatto una serie di terapie. L'ultima, la più interessante di tutti, è un anticorpo monoclonale in fase di sperimentazione. Era proprio in via di sperimentazione questo qua. Quindi sono entrato... Entrato in una fase sperimentale ufficiale. Siamo riusciti ad entrare in questa fase sperimentale. Gli ha causato una crisi iperimmune. Per cui questo anticorpo che dovrebbe funzionare dopo un tot di cicli, al secondo ciclo gli ha scatenato una reazione talmente violenta che l'ha portato in pochissimo tempo in coma per acidosi metabolica. Il papà è andato in coma quanti giorni? In totale sono stato 80 giorni. Cioè quando si sa che sta morendo una persona nota, eccetera, nei giornali preparano, si chiama cuccodrillo, no, lattoria, oggi. Devono mettere solo oggi. Alle 14 è venuto a mancare, devono mettere solo l'orario e basta. Fin qui è quello che abbiamo potuto vedere e provare. Di scientifico chiamiamo. Di scientifico. Entriamo in una zona diversa, diciamo. Se Valentino manda a far vedere questo dipinto di Bosch, che è del 1500, vedete? Vedete che in fondo c'è un tunnel con della luce? Bosch lo ha dipinto proprio nel 1500, si chiama l'Ascesa dei Beati. Perché? Perché, scavagni, tu durante il coma... Ecco, proprio nei primi giorni di coma, io mi trovavo a Tor Vergata ed avevo, praticamente, i parametri erano incompatibili con la vita, perché avevo il pH del sangue 6,8, che è incompatibile con la vita, 50 di pressione e 20 di frequenza. Io credo che il vero, e questo lo dico anche rispetto a quello che diciamo prima sulle terapie, il vero merito di figlio e di medico che ha assistito a papà, al di là dei pensieri su cosa stesse succedendo, è stato quello di convincere i medici che tutto questo era una reazione alle terapie e non era la fase terminale del cancro. Perché quando lui è entrato in coma, gli avevano dato neanche un mese di vita per il tumore. Ecco, questo è il punto che poi si raccorda anche al tunnel di luce. Cioè, io sono andato ovviamente lì, ero completamente out, quando dopo, credo, tre o quattro giorni che ero in coma profondo, ho avuto questa visione. E cioè, mi trovavo in questo tunnel di luce meravigliosa e camminavo lungo questo tunnel di luce felice di lasciarmi alle spalle tutti i dolori, malanni, eccetera, eccetera. Ma poi venivo attratto fortissimamente da questa luce, questa luce straordinaria che era una luce positiva. Ma tu immaginavi di essere andato? Eh, immaginavo che stavo per andare. Che stavi per andare. Che stavo per andare. Quando improvvisamente sono stato fermato e la mano sinistra è stata presa da mia mamma che era morta l'anno precedente e non ha detto nulla. Poi, la mano destra è stata invece con maggiore vigoria presa da padre Pio, che mi ha detto letteralmente, Neuaglio, tu che stai facendo? Tu devi seguire la volontà del Signore. E mi sono svegliato. Mi sono svegliato per qualche minuto. E c'erano loro, c'era Giovanni, c'era mio fratello, c'era la mia compagna. Ho avuto il tempo di raccontare quello che avevo visto e poi me ne sono andato un'altra volta. Mi sono andato di nuovo a seppellire nel coma. Quindi qui c'è un incrocio comunque di una parte scientifica, eccetera, con cui tu puoi cercare di spiegare tutto. Però c'è anche un qualche cosa. C'è, che questo non è che sono io il primo, ce ne sono centinaia e centinaia di storie di questo tipo. Ma sempre il tunnel della luce. Abbiamo voluto portare questo qui. Praticamente ero intubato. Avevo fatto la tachinomia perché non riuscivo a respirare da solo. Non potevo nutrirmi perché tutto il cibo andava di traverso, finiva nei polmoni. Quindi dovevo nutrirmi per via parenterale. Pazzesco. Ogni giorno. Poi avevo tubi infilati da tutte le parti. Ciò nonostante, devo dire che ho attraversato questo periodo. Questo veramente ci tengo a dirlo anche perché poi si possono fare tanti ragionamenti personali. Però questi giorni di coma spontaneo e poi di coma indotto, durante i quali ho avuto credo di tutto, mi hanno fatto la dialisi. 90% di possibilità di morire e 10% di farcela. Ho fatto 20 ore di dialisi, mi sono svegliato e ci stava la mia compagna di fronte a me. Dice, amore come sai? Una chiave, scusate l'espressione, e mi sono riaddormentato. Vengo portato dal San Raffaele a fare questa TAC. Io stavo infilato in due tubo così e guardavo lui che a fianco al radiologo guardava tutte le immagini dell'ATAC. faceva un ATAC total body di tutto il mio corpo, che lui aveva lasciato alcuni mesi prima pieno di metastasi. E vedo Giovanni, che è un tipo molto calmo, tranquillo, che invece piangeva. E allora io ho detto, va bene, è andata, è andata. E invece quello è venuto, mi ha abbracciato, ha detto, papà, è quasi scomparso. Cioè praticamente più dell'80% del tumore era andato via. Poi fatto in seguito altri controlli, Maurizio, fatti ancora degli altri controlli a distanza di quattro mesi, successivamente poi è scomparso completamente e adesso ci sono solamente delle cicatrici. Quindi ora poi può succedere... L'abbia detto, non è il momento. Ora, mi ha detto, forse ci sarà anche qualche ragione per la quale pure mi hanno fatto tornare. E questo me lo sono domandato, me lo sono chiesto e me lo continuo a chiedere. Forse una delle ragioni è proprio quella che stiamo facendo questa mattina. E quello che stiamo dicendo, non bisogna arrendersi, perché ci sono situazioni estreme che però trovano la possibilità di soluzione. Allora ci sono due considerazioni da fare qui. Molto vicine, sovrapponibili, intrecciate, eccetera. Da una parte tu sai, io sono professore di neuroscienze, ho vissuto per 40 anni di questo, lavorando sul rapporto fra cervello, sistema immunitario, sistema endocrino. Quindi, insomma, abbastanza approfondito nella materia scientifica. E teoricamente sarei dovuto essere scettico rispetto a quello che vedevo, quello che ho visto o come si interpreta. Ma qua c'è una parte spirituale che non si può trascurare. Non si può trascurare questo tunnel di luce. Perché guarda, tu potresti anche dare delle spiegazioni scientifiche estremamente rigide che c'è qualche cosa nella nostra antica memoria, nell'ippocampo che ci portiamo dentro, che in certe condizioni spara fuori questa sorta di tunnel di luce, eccetera. Però io ti devo dire che ho sentito, veramente, con tutto il cuore, ho sentito che c'era qualcosa di più. C'era qualcosa che andava al di là, andava oltre. E siccome ci sono centinaia e centinaia di questi casi... E' vero, tutti così, eh? Tutti descrivono questa... Se posso dire in 1500, già... Faceva questo, quindi... Quindi c'è una... Siamo qualche cosa di più, certamente, di un pezzo di carne. Siamo di più di un pezzo di cervello. Comunque, voi avete conosciuto una persona che l'aldilà l'ha visto e poi ha preferito tornare indietro. Oppure vanno andati indietro. L'aldilà l'hai visto. Io l'ho intravisto. Mio figlio che ha fatto, diciamo, una carriera in America per conto suo, eccetera, e poi alla fine ci siamo ritrovati sugli stessi concetti. Abbiamo sviluppato delle teorie molto approfondite, eccetera, eppure, pure lui, che non è, diciamo, è credente, ma non è certamente... Guarda, Umberto, io sono felice del tuo racconto. Sono felice dell'esperienza che tu hai vissuto, ma sono altrettanto felice che tu hai potuto raccontare agli altri questo, perché è una iniezione di coraggio. E forse per questo può darsi che mi hanno mandato per questo. Hai capito? È questo. E di questo io ti sono grato, proprio di aver regalato a chi ci ascolta un'opzione.